fino sotto ecco adesso all'aperto si stanno allenando senza sciuola attenta le sciuola sono misti juniors e allievi un misto all'aperto ecco l'enzetta che subito prepara le palle de neve fuori c'è Zisnov ecco ripartono per un'altra camminata una metà stanno all'interno del pallone con mister Giovanni Di Giulio e un'altra metà di misto juniors e allievi qua con mister Gabriele Di Felice ecco che partono tutti in file indiane che Enrico è il primo ecco ripartono da questo lato ecco c'è la neve Zisnov c'è Guiduccio Emanuele Renzetto che si contraddistingue porta la maglia dell'orangiano ma come maglia senza divisa è Ernesto è Ernesto eh si è Ernesto ecco seconda partenza ecco ecco l'insetto ecco pure Nicolò ecco Ci troviamo al nuovo di via Olimpia di Castelfrentano Oggi si allenano gli allievi e la juniores Come vedete i campi sono innevati E innevato scusate Ecco Un'intervista per la stamba A posto Adesso c'è i gradoni Dicono tutti che l'ha inventato Zeman Ma l'ha inventato Mr. Gabriele E si scende piano piano Siamo piano a tenere Grazie